Parliamo di Cantarelli, innanzitutto dei 120 casse integrate, in che situazione sono? Sono in una situazione difficile, molto difficile, come lo sono purtroppo tutti i lavoratori che vengono colpiti dalla crisi. I lavoratori in cassa integrazione da aprile non hanno riscosso la cassa integrazione ordinaria e ancora la cassa integrazione straordinaria non è stata autorizzata al Ministero, quindi sono in assenza di qualsiasi sostegno economico da aprile del 2015. Speriamo che l'Inps e gli istituti, noi sappiamo che l'Inps fa veramente del suo meglio e con il poco personale che è, lavora molto, ma molto intensamente per i lavoratori, ma purtroppo questa è una situazione di grave emergenza, quindi speriamo che il pagamento venga effettuato quanto prima. Noi ci auguriamo entro la fine del mese, però non abbiamo ancora dati certi. C'è da capire anche questo commissario quando comincerà a pronunciarsi sulla Cantarelli, e soprattutto anche a incontrare i lavoratori e i sindacati ovviamente. Noi abbiamo fatto richiesta di incontro al commissario un po' di tempo a questa parte e speriamo che questo avvenga più rapidamente possibile. Abbiamo intenzione, abbiamo fatto richiesta anche di incontro al prefetto proprio per significare la problematica della Cantarelli, che non è solo della Cantarelli, ma dell'indotto che porta 500 operai in grandissima difficoltà. Insomma lo Stato deve essere vicino ai lavoratori. Sì, noi abbiamo appena terminato una riunione con il collega Foscarini della Fenca, abbiamo deciso di fare un'assemblea nei prossimi giorni, se non ci saranno novità di sorta, credo il 24, e lì con i lavoratori decideremo le iniziative da fare, perché chiaramente noi abbiamo bisogno di risposte non tanto come organizzazione sindacale, ma tanto come lavoratori, tutti quanti, quelli dentro e quelli fuori, perché ad oggi le situazioni che è sono comunque tutte nella stessa barca.